Il meteo è offerto da La tua agenzia di viaggi Il Tuareg Tour Operator Tutto un altro mondo da godere Benvenuti al meteo di Fil Rouge TV Vediamo le previsioni di sabato 8 agosto L'alta pressione abbraccia la regione Garantendo tempo stabile e assolato ovunque Sul litorale e sull'Appennino Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi Per l'intera giornata Nelle zone interne Cieli inizialmente poco nuvolosi Ma nelle ore centrali della giornata Possibili deboli piogge Rasserena in serata 20 deboli Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso Canale da poco mosso a mosso Adesso vediamo le temperature Palermo 28,32 Trapani 28,30 Agrigento 26,30 Enna 24,30 Caltanissetta 24,30 Ragusa 23,29 Siracusa 26,30 Catania 26,32 Messina 25,30 Grazie e appuntamento al meteo di domani 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 Grazie e appuntamento al meteo di domani